amici oggi voglio farvi vedere sono una zona che si chiama guaciupita è vicino al ponte di santo domingo in capitale vi voglio far vedere la la terra ferica di santo domingo la vista che si vedrà facciamoci un giro david la cost vi saluta nobile perfetto grass la terra ferica di santo domingo 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 e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti